Nel 1927 quando Eddie Condon incise i suoi primi dischi chiamò alcuni ragazzi che facevano parte di una scuola, di un college che si chiamava Austin School e questo gruppo musicale che loro fondarono si chiamò Austin School Gang per fare il verso ai gangster che allora imperversavano a Chicago da Al Capone e gente di quel genere là. E tra questi ragazzi c'erano dei personaggi che tra l'altro io ho conosciuto che purtroppo non ci sono più e con i quali ho voluto reincidere quegli stessi pezzi che loro incisero con Condon nel 1927. Uno di questi era Jimmy McPartner e l'altro Bud Freeman. Jimmy McPartner suonava la cornetta, Bud Freeman suonava il sax tenore e sono stati i primi musicisti che hanno cambiato la musica che fino allora era quella che imperversava, era quella che veniva da New Orleans. Mi raccontava Jimmy McPartner che suonava in un locale che molto spesso Al Capone andava in questo locale per sentire suonare il jazz e gli chiedeva continuamente di suonare O Sole Mio che col jazz non è che abbia molto a che fare, no? E lui era costretto a suonare come facevi a dire di Noa Al Capone e allora doveva suonarlo naturalmente suonandolo in chiave jazzistica. E una sera arrivò un gruppo di amici di Al Capone che venivano dalla Sicilia e Al Capone, per far vedere che lui era quello che quando comandava gli altri dovevano dire sì, chiese a Jimmy McPartner di suonare O Sole Mio dieci volte. E Jimmy McPartner lo suonò dieci volte. Non poteva dire di Noa. Comunque, assieme a Jimmy e a Freeman ho inciso questo brano che adesso suoneremo, un brano dolcissimo, talmente dolce che si chiama sugar. Facciamo una volta però. Una volta, non dieci volte, una volta. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.